Farò risorgere Crono e gli dèi dell'Olimpo conosceranno la morte. Secondo capitolo della saga di Percy Jackson. Per la nostra salvezza ci servono i migliori, i più forti e i più coraggiosi. Ciao, fratello. Una nuova avventura per il figlio di Poseidon. L'unica cosa che ha il potere di salvare la nostra casa è il vello d'oro. Si trova nel mare dei mostri, che gli umani chiamano Triangolo delle Bermudio. Sviti il coperchio e liberi i venti dai quattro angoli del luce. Dimmi che non sono squali. Non sono squali. Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo. Il mare dei mostri. Sabato 21 e 10 Italia 1